Saranno la nazionale italiana di ciclismo su strada, che con Matteo Trentin si è classificata seconda al mondiale, la Gazzetta dello Sport, primo giornale in Italia a parlare di ciclismo, e il piacentino Giancarlo Perini, i vincitori della dodicesima edizione del premio Coppa d'Oro, nato per valorizzare le eccellenze piacentine, e che quest'anno propone il parallelismo tra ciclismo e i prodotti tutelati, con il territorio a fungere da legame imprescindibile. I premiati sono appunto la nazionale di ciclismo maschile, e sarà il commissario tecnico a ricevere questo premio. La Gazzetta dello Sport e poi l'altra caratteristica di ricordare sempre un grande piacentino in questa occasione, proprio nel mondo del ciclismo, pensiamo di assegnare il premio a Giancarlo Perini, perché Giancarlo Perini in 15 anni di professionismo, fatto d'altissimo livello, fatto 10 giri d'Italia, 11 di Francia, ha fatto le Vuelta, ha fatto percorso tutta l'Europa in bicicletta, ma la sua carriera è caratterizzata dal grande lavoro che ha fatto nel 1992, perché è stato l'artefice della vittoria di Gianni Bugno al campionato del mondo del 1992. Questo glielo riconoscono tutti, e noi oggi vogliamo proprio ricordarlo con il premio Coppa d'Oro, perché questa qua è stata una sua grande impresa. L'assegnazione del premio è in programma alle 16.30 di martedì 15 ottobre a Palazzo Gotico.